Abbiamo parlato con il Presidente Sebesi del comune lotta contro il terrorismo, del comune impegno contro il terrorismo a difesa della civiltà, della pace e della pacifica convivenza. Nel pomeriggio vi sarà al Museo del Bardo un concerto per esprimere solidarietà alla Tunisia rispetto all'attentato di qualche mese addietro e per ricordare le vittime di quell'attentato. Tunisia e Italia sono non soltanto legate ma in piena condivisione di intenti nello stimolare un patto di civiltà tra tutti coloro che desiderano la pace e il rispetto della dignità umana contro il terrorismo.